Papa Francesco è il celibato dei sacerdoti, il nostro grande Papa Francesco si muove verso l'abolizione del celibato per i sacerdoti, per i priti, lo ha detto recentemente, ha detto che il celibato dei sacerdoti non c'è sempre stato, è vero non c'è sempre stato celibato per i sacerdoti e così come non c'è sempre stato, ora c'è, magari verrà abolito, verrà abolito, si si ha ragione, ha spiegato per esempio che già dentro la chiesa cattolica ma di rito orientale, i sacerdoti, che chiesa cattolica di rito orientale, i sacerdoti si possono sposare, beh al di là della chiesa cattolica di rito orientale i cui sacerdoti si possono sposare, qua si evidenzia che nel cristianesimo cosiddetto protestante, luterano, calvinista, anglicano, i sacerdoti si possono sposare, anche nella chiesa cristiana greco-ortodossa, quella di Mosca, i sacerdoti si possono sposare, tutti i sacerdoti si possono sposare, nelle altre religioni tutti i sacerdoti si possono sposare. si fa bene, fa bene Papa Francesco, fa bene, fa bene a progredire in questa direzione, però io di Serafino Massoni devo ricordare al nostro bravo Papa Francesco che si, il ceribato è una questione storica, una volta non c'era il ceribato per i sacerdoti, poi è arrivato il ceribato e presto potrebbe essere abolito. io non lo so se i predi cattolici sono contenti che venga abolito il ceribato, cioè che non si possono sposare, perché io ci metto la mano sul fuoco, io Serafino Massoni ci metto la mano sul fuoco, che un prete cattolico che non si può sposare, magari, magari la trova lo stesso, le trova lo stesso delle parochiane con cui andare a letto, anche se non si sposa, anche se non si sposa, va bene, io penso che sia così, eh, penso che sia così, capito Papa Francesco, il problema è un altro Papa Francesco, il problema è un altro, il problema è la questione della donna, è la questione della donna, perché Papa Francesco, io Serafino Massoni, che sono questa, sono questa persona qua, Papa Francesco, ho 83 anni compiuti, Papa Francesco è, sono stato professore di filosofia e storia nei licei classici e scientifici, poi ho superato un pubblico concorso nazionale e sono diventato preside di ruolo di licei classici e scientifici, ho scritto tante tante opere, questa è soltanto la mia ultima opera Papa Francesco, il problema è un altro, il problema è la donna, e la donna è il problema, ma perché, perché, sappiamo tutti che, Maria, Maria è la mamma di Gesù, Maria, la Vergine Maria è la mamma di Gesù, Gesù, è Dio, Gesù è Dio, è Dio che si è fatto carne, Gesù è la seconda persona della Santissima Trinità, la Vergine Maria è la mamma di Gesù, la Vergine Maria non è una Dea, per la religione cristiana la Vergine Maria non è una Dea, è una santa, una beata, una santa, ma non è una Dea, benché sia la mamma di Dio, del Dio che si è fatto carne, è la mamma di Gesù, Gesù è Dio, Gesù è la seconda persona della Santissima Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, non è una Dea? È un grosso problema questo Papa Francesco, questo è un problema che un Papa Gesuita dovrebbe affrontare perché sono i Gesuiti che hanno scelto i nodi più complicati, i nodi più complicati, per cui io qua ricordo a Papa Francesco che risolvere la questione del celipato è abbastanza facile, anche se io per esempio se fossi un prete cattolico me lo terrei stretto il celipato, me lo terrei molto stretto il celipato. Comunque il problema non è quel problema, è quello della donna, perché si deve spiegare ai fedeli per quale motivo, per quale motivo? Maria, Maria, la Vergine Maria che è mamma di Gesù e in quanto mamma di Gesù è mamma di Dio, Maria non sia una Dea, non sia una Dea, ma sia sempre una Santa, una Beata, una Vergine, ma non è una Dea. E' questo il problema, per cui ne discende che nel cristianesimo, in tutto il cristianesimo, ma specialmente nel cristianesimo cattolico, non ci sono gli ordini sacerdotali femminili, cioè ci sono le suore, le monache, ma le monache non hanno lo stesso valore giuridico dei predi, perché le monache non gestiscono i sacramenti, le monache svolgono un ruolo inferiore. Vabbè io qua mi fermo Papa Francesco e mi aspetto che la prossima uscita riguardi, oltre al celibato, che potrebbe essere abolito, ma riguardi soprattutto il ruolo della Vergine Maria, che in quanto mamma di Gesù, cioè mamma di Dio, dovrebbe essere una Dea, dovrebbe essere una Dea, non semplicemente una Santa, una Beata, ma una Dea, una Dea, per cui dovrebbero esserci pure gli ordini sacerdotali femminili. Ok Papa Francesco, ok Papa Francesco, a tutti, tanti cari saluti dalla cometa dell'imperatore che vi aspetta in tutte le librerie italiane.